Tecnologia all'avanguardia, videocamere in alta definizione, operatori crane, operatori steady cam, regia mobile multicamera e registrazioni audio professionali. Per molte aziende le riprese video sono diventate un'esigenza di marketing, uno strumento che permette loro di veicolare l'informazione con la distribuzione di audio visivi su supporto o anche tramite la pubblicazione sul web. Spettacoli teatrali, trasmissioni spot televisivi, concorse e sfilate di moda, eventi sportivi, concerti live, videoaziendali e fieristici. La competenza e la professionalità dimostrate ai nostri clienti in questi ultimi anni ci hanno permesso di crescere e di assodare la nostra esperienza in settori sempre nuovi. L'innovazione tecnologica e l'abbattimento dei costi dell'elettronica ci hanno permesso oggi di essere competitivi, pur garantendo degli alti standard qualitativi. La tua immagine nei nostri obiettivi. Grazie.